un mese con la sua fidanzatina in realtà nasconde una cotta per camilla dei ross nella rubrica limoni x factor iniziamo anche a rovinare delle famiglie non posso mandare sei certo che possono mandarlo ma no è una parolaccia non l'ha mandato in primo perché c***o poi ci faccio la figura di tu sai cantare questo è il motivo perché vittoria non canta e per fare hai fatto la bua copra hai fatto la bua copra copra no sono c***o che è bianno perfetto andate bene un pochetto tutti a f***o si si andate bene un pochetto si 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 vota maneskin del codice è lo zero un po' poi ho vota di c***o dei maneskin se no che venimo a trovo a casa si vi venimo a gi**o si aaaaaaaaaaaaaa si è problema buono quindi voi dovete spingere una macchinetta pam 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 follow me follow me e dai una macchinetta una macchinetta una macchinetta con dietro un adesivo un maneskin un maneskin un maneskin e poi tipo voglia chi molla e guarda quella che buca suonato canta che buca suonato canta vedete 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 che l'è bello come nel zocco dei cortelli vabbè insomma spingete una macchinetta fate un po' vedo dei guatti bravi ah allora in realtà i maneskin sono diventati un power trio sono diventati un power trio come i rossi eccoci aaaaaaaaaa mamma mia regà manca proprio manca proprio una persona buona una palla dei celsi così abbiamo gli ultimi tre secondi quindi dobbiamo dire le cose veramente velocissimamente questa settimana sarà una settimana molto divertente fighissia continuate a votarci a vedere il nostro video diario ero partito a macchinetta e vai continuare no 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 in questo momento siamo in un appartamento ed è troppo strano stare in una vera casa stiamo girando un sex tape esatto in questa camera in quanto si sta pure in letto facciamo un alem no un alem un gang bang e niente no noi vogliamo bene graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa razzambella performance basta paparazzi il fanno un po' di privacy Un rapporto amorevole e questo è molto bello No, è vero, vogliamo essere ripresi nelle nostre promiscuità Basta, paparazzi